Ciao a tutti e benvenuti in questa seconda puntata che prevede la visita alla Val Gardena, al Seceda e al Passo Sella. Visita che comincia da Ortisei dove cercherò immediatamente un ciclista per sostituire la gomma bucata. Si vede che siamo qua e non siamo là. In un'ora, ho portato la bici, ho cambiato tutti e due i copertoni e adesso siamo pronti per altre nuove adventure. Ortisei, posta a 1.237 metri di altitudine, si trova al principio della valle. Con 4.700 abitanti rappresenta il vero centro nevralgico della Val Gardena, oltre ad essere una delle località più importanti dell'intero Alto Adige. Il suo paesaggio urbano, dominato da alberghi tradizionali e graziosi edifici residenziali di fine secolo, vanta preziose peculiarità. L'isola pedonale, da molti definita come la più bella delle Dolomiti, propone, oltre alle vetrine decorate dei negozi, le splendide facciate delle case e degli alberghi più rinomati. Qui si respira la quiete rigenerante delle montagne e la vivace atmosfera di un centro ricco di eventi e manifestazioni culturali. Difatti, arte e cultura qui sono di casa sin dai tempi lontani. Guarda, guarda cosa ho trovato qua. Già nel XVII secolo numerose famiglie ortiseiane si dedicarono all'intaglio del legno, dedicandosi in particolar modo alla realizzazione di sculture a tema biblico. Successivamente gli scultori hanno trovato un'uova linfa proponendo sculture alternative a quelle di genere religioso. Sculture che vengono apprezzate in tutto il mondo. Ma se Ortisei è già bella di per sé, il suo splendore prende ancor più consistenza grazie alle numerose montagne che la circondano. A nord si trova il Rescesa, raggiungibile grazie ad una moderna funicolare. Sull'altro versante della valle, la nuova ovovia porta sugli estesi prati dell'Alpe di Siusi, nella zona del Monte Pizze e del Col del Mesdì. Se invece si volta lo sguardo verso nord-est, troviamo la funivia che porta al Seceda, oltre il quale si sviluppa il parco naturale Puezzodle. Oggi Ortisei è una vera Eldorado a 360 gradi perché è in grado di soddisfare pienamente le esigenze estive degli appassionati del trekking e della mountain bike e le esigenze prettamente invernali di tutti coloro che praticano gli sport invernali. Dopo aver esplorato in lungo e in largo questa graziosissima località, seguendo il richiamo della musica, faccio un time-out presso un pub posto all'interno dell'area pietonia che sta proponendo della buona musica. Viva! 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 si trova il frigo di Cresi, prima di tornare al campo base faccio un po' di provviste, tenendomi ben lontano dalle tentazioni culinarie dei prodotti tipici del posto, soprattutto dallo spec. Ma chi me l'ha fatto fare di intraprendere la strada vegetariana? Qua non vi ho detto un ender, ma praticamente sono rimasto chiuso fuori perché ho lasciato le chiavi dentro nel garage del cancro, avendo messo la bici via, ero un po' stanco e tutto, il primo giorno subito, morale non potevo più entrare, sono riuscito in qualche modo solo a rompere la parte dietro, sono riuscito ad aprire il finestrino del bagno, mi sono buttato dentro proprio a un mo' di pesciazzo e niente, poi sono riuscito ad aprire la porta del bagno che era chiusa e crazy camper ogni anno te ne combino una, povero. Andiamo a mettere la pappa in frigor, c'è un po' di casino. Questo è il mio letto, se non credete, con cosa dormo, lenzuolo, coperta e sacca pelo eh. Il bagno, il bagno vi faccio vedere il bagno cos'è, una discarica praticamente, c'è dentro di tutto. Questa è la mia dinette, qua faccio da mangiare, qua ci sono i fornelli, un po' di luce, frigor, segni vuoto, adesso lo riempiamo un po' e basta, è un posto guida. Dopo cinque sere che sono stato rinchiuso qua dentro nel camper a scaricare video, a fare la selezione e tutto, stasera per la prima volta vado in vita, dove? Ad Ortisei, perché è molto carino, visto che c'è tanta gente in giro e quindi andiamo a curiosare un attimino. con una mano, con l'altra sto tenendo la GoPro perché non mi sono portato dietro il casco, che c'è poca gente, proprio poca gente in giro eh. Inghia non c'è nessuno, però io ho sentito una banda che suonava. che ho sentito la musica, il richiamo della musica. Arrivo io, ho finito tutto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. E allora anche stasera niente movida, niente birretta, niente socializzazione, però è stato uno spettacolo assistere all'esecuzione dell'orchestra qua di Ortisei. Visto che ieri sera ho conosciuto, ho avuto modo di conoscere il proprietario o il gestore di questa struttura veramente grande che espone sculture in legno, andiamo a curiosare dentro e a fare due chiacchiere con lui. Andiamo! Ciao! Ciao! Ciao, ciao! Allora io avevo l'appuntamento con tuo papà, mi ha detto di passare oggi. Sì, è vero, sì, lui non c'è oggi, perciò posso raccontarti un po' io della nostra storia, dell'orchestra, sì. Sì, noi siamo un'azienda di sculture in legno e praticamente abbiamo, mio nonno praticamente ha iniziato a sculpire in legno quando era giovane e lui ha iniziato l'impresa nel 1966. L'impresa una volta era Santa Cristina, era più piccola e cinque anni fa con mio padre ci siamo trasferiti qui e abbiamo ingrandito il tutto. Da vedere, per esempio, sono dei pezzi fatti interamente a mano in legno di cirmolo con il marchio. Legno di cirmolo? Mai sentita cos'è? Quello è un legno che nasce proprio qui in Magardena, è un albero a cagliari praticamente, un cirmolo. Ma cos'è? La famiglia dei pini, degli abeti? Sì, ha un colore molto bello questo legno e anche un profumo molto intitente. Ah, adesso aspetta che annuso. Si sente vero? Si sente, sono fresco. Solo il cirmolo o usate anche altri tipi di legno? No, le cose piccole le facciamo in legno d'acero, che è questo legno qua, è molto bianco, molto duro come legno con pochi rami. Si usa anche il tiglio, che è qualcosa di più grande, che è più morbido e se no usiamo anche altri tipi di legno. Il ciliegio e il noce lo usiamo soprattutto per lasciarlo grezzo soprattutto e soprattutto per sculture un po' più moderne come questo Cristo. Sì, perché è molto decorativo come legno, è molto bello. Le sculture religiose New Age, diciamo. Senti invece questi quadretti qua, per esempio? Questi vengono proprio spazzati a macchina e poi riscolpiti a mano, perché l'originale lo facciamo a mano. E dopo c'è una macchina che viene però seguita da una persona che segue con la penna l'originale e la macchina lo rifà su altri cinque pezzi. Invece questi qua sono di nuovo dei pezzi unici che vengono fatti interamente a mano e per questo portano ecco questo marchio con il certificato. Che bella, che roba! Questa è scolpita molto bene, è sempre in legno di tiglio, è colorata, con colore d'olio e soprattutto tutte le piume sono proprio scolpite in modo molto dettagliato. È un lavoro fatto molto molto bene. Questa gufala l'abbiamo fatto in legno di cirmolo sempre, che è il nostro legno qui. E questo è scolpito in modo un po' più brezzo, un po' meno lavorato, perché è anche molto bello anche a metterlo in un giacino fuori. Sì, perché se non c'è il colore tiene, poi certamente il legno lavora anche sotto la pioggia, sotto il sole, può avere delle piccole fessure, però più o meno rimane proprio così, diventa più scuro. E i pagliacci... Eh, qua no, sì, volevo sapere un pochettino le colorazioni, sembrano quasi non in legno, eh, a vederli. Se uno non lo sa, li vedi in un negozio normale. Eh, sì, questo è il legno di tiglio sempre. E praticamente vengono colorati con colori ad olio. Incredibile. I miei orologi colpulli facciamo in collaborazione con un'altra impresa nella foresta nera, che è l'orologio a Cocu, è proprio tradizione della foresta nera. E noi facciamo le statuine che ci sono sopra e loro fanno il meccanismo e l'orologio, perché è la casetta anche. La cosa bella è che funzionano con il peso, non senza batteria. Ok, Nadia, è stato un piacere, mi hai fatto vedere le cose bellissime. Salutami il papà. Sì, va bene, grazie. Grazie, ciao, ciao, buongiorno. Bellissimo, eh? Espletate tutte le visite a Ortisei, ora è il momento di tornare in alta quota. Eccoci sulla cabinovia che porta al Seceda. Ho pochissimo tempo a disposizione, perché arrivo su in più o meno mezz'ora. E dopodiché alle 5 e mezza c'è l'ultima discesa. Ragazzi, questo è uno spettacolo allucinante. è un'ottima, è un'ottima, è un'ottima. Appena tornato giù, il tempo di farmi una doccia. È arrivato un po'. Adesso è l'una, alle 9 e mezza, 10, è venuta giù una bomba d'acqua della Madonna. La temperatura si è abbassata, c'è un'umidità incredibile. C'è una magliettina invernale della terza età, una felpa e la giacca dentro. Capo, io sto cercando San Giacomo. San Giacomo. Ma San Giacomo. Allora hai bisogno che vai di tutto. Di là, ok. Santa Cristina puoi andare, ma con la macchina qua, su, è pericoloso. Ah, 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 ah. Andando su, magari su, più là, non questa. Beh, ma quella, sì, bene. Ma non direi, c'è per andare a piedi, però non puoi mettere su. No, beh, io ho la bicicletta, però... Ah, caro d'addio, signore. Signore. Cos'è che anche lei era un ciclista? Ah, io? Io sono massa vecchio. Eh, eh, sempre vecchio, vecchio, vecchio. La vita è bella allo stesso. Puoi camminare, puoi parlare, puoi pensare. E allora? Sì, allora, allora, sì, sì. Io ho 83 anni. 83 anni. Eh, cavoli. E ti lamenti? E ti lamenti? Sei in giro a piedi a farti le tue passeggiate? No, no, no. Non passo più, adesso passo già. Ne ho fatto troppo. Troppe? Guarda, per andare su, su un saluto. Eri un arrampicatore? E poi da quella parte, poi del lato, su e qua. E poi quando si fa pace, per andare sul ghiacciaio. Sul ghiacciaio. Ah, ma stia. E' un cavolo quasi, così, spottondi. Che... Trac, trac. 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 Bellissimo. Sei anche simpatico. Cosa vuoi di più? Dai. No, no, no. Non dire che sei vecchio. La vita è bella anche. Ho ben detto. Come... Ah, 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 ah. Fai a sud, a sud, a tutto. Sud, sud. Eh, beh, cavoli, sei bello coperto. C'hai su. Io c'ho la maglietta, tu c'hai su. La camicia, il maglione. Ma questo è il gilet. Vicino di mia moglie. Ah, 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 ah. Come io c'ho... Ah, 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 ah. Ancora questo. Questo. Ti vai su, siudi. E se il gilet, il viud, il viud. Poi è tutto lì. Ah, ah, ah. Andate fino al passo, sella. Sì, vado su, adesso vado su al sella. Al sella? Sì, a fare tutte le riprese. Tutte le... Dormi anche lassù. Sì, 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 dormo col cam perché dovrebbe essere una meraviglia. Tutto bel calmo, dormire. Silenzio totale, paesaggi meravigliosi. Bello, bello, è stato un piacere. Come ti chiami? Giovanni Insam. Giovanni Insam. Ok. Ciao Giovanni. Grazie, ciao. Ciao. Santa Cristina, oltre ad essere una graziosa località turistica, è doppiamente nota per due particolarità. Da prima, credo, venga riconosciuta immediatamente da tutti gli appassionati della Coppa del Mondo di Ski. Sto parlando della mitica diagonale conclusiva della pista di Ski che ospita la discesa libera della Coppa del Mondo. La seconda rende il paese unico in tutto il pianeta. Il presepe, qui esposto, è infatti il più grande del mondo ed è stato realizzato da un gruppo di 18 scultori di Santa Cristina. Un'opera d'arte è così curata nei dettagli della lavorazione del legno che sembra possa prendere vita da un momento all'altro. Giusto il tempo di appiattire per qualche istante il nostro bel sederino sul sedile di Cresi ed eccoci transitare attraverso Selva Gardena, che risulta essere assai più grande della cugina Santa Cristina. Lasciato il centro abitato di Selva, comincia subito la salita che ci porterà al Passo Sella, un altro straordinario spot pubblicitario a favore delle meraviglie del pianeta Terra. La sopra passeremo la notte per dedicare tutto il giorno successivo nel fare un'altra indimenticabile scorpacciata di incomparabili emozioni. Posto a 2240 metri di altitudine, tra il massiccio del Saslong e il gruppo del Sella, il passo segna il confine naturale tra la Val di Fassa e la vicina Val Gardena e fra le province di Trento e di Bolzano. Incredibile ma vero! Ho messo la sveglia alle 8, una alle 8, una alle 9, una alle 10 e invece alle 6.50 ero già sveglio e adesso mi vado a fare le riprese del Saslong all'alba più o meno, 6.50. Grazie a tutti! E allora eccoci qua, diretti verso il trenino, dovrebbero essere più o meno circa 15 minuti di camminata, un trenino che si compone tra le spettacolari torri, uniche formazioni rocciose puntite dell'intero massiccio del Sella che assomiglia piuttosto ad un insieme di gigantesche fortezze dalle pareti altissime. Qui la faccenda si fa un po' più complessa, speriamo che non ci siano viperazze in agguato. Allora adesso c'è una bella salitazza, vai andiamo! di che fatica! che spettacolo ragazzi! che spettacolo ragazzi! che spettacolo ragazzi! che spettacolo ragazzi! purtroppo queste montagne nascondono insidie molto pericolose. sia mai che il volo di questi corvacci sia un sintomo di quanto sto dicendo? ai 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 vuol dire che qualcuno si è sgarbelato Joe! a quanto pare il tutto si è risolto con un lieve infortunio anche se esplittato il soccorso l'elicottero riprende immediatamente il volo probabilmente per soccorrere qualche altro arrampicatore in difficoltà. Il calar del sole oltre a enfatizzare i panorami che circondano l'imponente marmolada, la montagna più alta delle Dolomiti, ci permette di scovare qualche simpatica marmotta. non c'è un caldere! guarda! c'è un caldere di figlia! ho 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 ho! e un caldere di frattere in questa posizione! questo invece è probabilmente un falco pellegrino che si appresta a concludere con buon esito una battuta di caccia sto parlando con Piero grazie veramente perché io adoro le marmotte poi mi piace fare queste riprese e grazie a lui siamo riusciti a individuarne a individuarne due a vedere cos'era un capriolo quello là era un capriolo col cucciolo una mamma col cucciolo lui viene sempre qua viene spesso qua questa è la mia terrazza a volte mi metto in quella panchina e mangio lì perché non c'è più nessuno infatti pian piano si sente la differenza purtroppo non c'è più il sole perché sennò a quest'ora qui c'è una luce che è una cosa veramente fantastica rivolgendo lo sguardo verso la nostra prossima meta il gruppo del cir e salutando la marmolada si conclude la seconda puntata nella prossima ci inoltreremo nell'alta badia per poi raggiungere il passo falsarego e il famoso laga zuoi e le mitiche 5 torri quindi se desiderate continuare ad apprezzare il fantasmagorico territorio dolomitico iscrivetevi al canale per non perdere la prossima pubblicazione la terza puntata ciao 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 ciao